Poi un'altra domanda che ci fanno è, cosa ne pensate di Java in ottica back-end enterprise? Che ne pensi di Java in ottica back-end enterprise? Aspetto la tua risposta e poi rispondo. Allora, cosa ne penso? Vabbè, io non è che abbia un amore particolare per Java. Diciamo che Java è un linguaggio estremamente longevo e che per l'appunto, proprio per la sua longevità, ma anche per la sua robustezza, è stato utilizzato molto in ambito enterprise negli anni. E ancora oggi credo che in ambito enterprise sia uno dei più diffusi, se non il più diffuso linguaggio con cui vengono sviluppate cose, ma soprattutto vengono mantenute implementazioni fatte negli anni. Il problema di Java, ma non in realtà di Java in sé, ma dell'uso che se ne è fatto in quell'ambito nel tempo, è proprio il fatto che magari sono state tantissime le mani che sono passate a implementare, a risolvere problemi, a aggiungere features, sempre sullo stesso codice che anno dopo anno dopo anno dopo anno è diventata un mostro a tre teste difficilmente gestibile. E quindi ci sono realtà che tuttora utilizzano Java in ambito enterprise, più che back-end, cioè proprio in ambito enterprise, proprio perché probabilmente è troppo difficile disfarsene adesso per quello che magari è stato messo in piedi. Questo è il mio pensiero, io non ho nulla contro Java, non lo amo particolarmente, però ha il suo senso di esistere sicuramente. L'ho detto cavolate? Beh, sono semplicemente i punti di vista. Allora, conoscere Java non è mai sbagliato. Il codice legacy che c'è in Java è una tonnellata, se pesiamo proprio, se mettiamo al chilo, diciamo così, ci sono tonnellate di codice legacy in Java e nella parte enterprise ci sono, parlo per quello che conosco, ovviamente non conosco tutto il mondo, però anche per la mia esperienza posso dire che Java comunque è strautilizzato, con la parte Spring, che poi non a casa è VMware, quindi viva Spring! È molto utilizzata, conoscere Java non è mai assolutamente sbagliato. Se mi dici al giorno d'oggi partiresti con un'applicazione enterprise, super mega enterprise in Java, la risposta è, boh, dipende dalle persone che ho dentro il team. Se il 90% delle persone che ho dentro il team conoscono Java, io partirei tranquillamente con Java. Cioè non esiste una risposta, diciamo, assoluta. Quello che posso dire è conoscere Java in ambito lavorativo, per chi sta iniziando, per chi vuole trovare lavoro in questo contesto, Java è un linguaggio conosciuto, utilizzato. C'è moltissimo codice legacy, quindi sbagliato non è. Oltre al fatto che i principi dell'OP che stanno in Java li ritrovate da tutte le parti, quindi. Sì, sì, assolutamente. Come ti dicevo, per me Java non è che lo ami particolarmente, però per esempio per imparare la programmazione oggetti, nulla è meglio di Java, credo. Quale linguaggio migliore? Java e C Sharp, secondo me, rappresentano proprio il fulcro della programmazione OP. Penso che, ovviamente non hai conosco tutti i linguaggi del mondo, però penso che si avvicinino proprio a quella che è la purezza della programmazione OP. Grazie. Grazie. Grazie.